Avrebbe colpito alla gola con un coltello il compagno della sua ex convivente dopo averli incontrati casualmente per strada a Castellaneta. In manette finisce un 22enne originario della provincia di Matera che dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Ad arrestare in fragranza di reato i carabinieri della compagnia di Castellaneta. Un'indagine lampo degli investigatori dell'arma, in particolare dei carabinieri del nord di Castellaneta e della stazione di La Terza, ha consentito, grazie alla testimonianza di numerosi presenti e all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, di ricostruire la dinamica dell'evento e di individuare il presunto responsabile del delitto raggiunto presso la propria abitazione e arrestato. La vittima, un cinquantenne del posto, ricoverato presso l'ospedale San Pio di Castellaneta, nonostante abbia subito una lesione in una delicatissima parte del corpo, non è al momento in pericolo di vita. Alla base del grave episodio, probabilmente una lita è scaturita per presunti dissapori ma esopiti. L'arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato condotto agli arresti domiciliari.